comunque mi ha fatto tanto piacere rivederti anche a me cara da quanto tempo senti ti posso chiedere una cosa ma ti sei ingrassato o sbaglio? ti sei ingrassato? no quello è perché devo fare un film francese veramente? che bello mi sono ingrassato apposta e come si chiama il film? la bagasse del solito questo è il film del film capito? ehi fammi scegliere che ti hanno appuntato a me, mi sono vivi